Con l'intervento di oggi, con il contributo, cercherò di dare il mio punto di vista, di dare degli stimoli rispetto al tema della conversion rate optimization. Lo farò portandomi dietro dei casi studio di gioiellerie, di e-commerce che lavorano in questo mondo qui. Come agenzia abbiamo deciso di dare questo tipo di contributo perché crediamo che dietro questa disciplina ci sia del gran valore. Pochi accorgimenti, poche modifiche, molto sensibili in termini di esperienza, di miglioramento di esperienza della navigazione del sito web, con impatti molto positivi sul fatturato che questo sito web sarà in grado di generare.